La Regione Toscana monitora costantemente l'attuazione dell'accordo di programma per migliorare la gestione dei refui civili nel comprensorio del cuoio, l'attività del depuratore a Quarno, lo stato del canale Usciana e la complessa attività relativa ai 13 siti in cui è stato rinvenuto il miscelato contenente il CHEU, il rifiuto di conceria al centro di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia. Lo ha ribadito l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni insieme al commissario straordinario per le problematiche connesse al CHEU Renata Laura Caselli e al direttore di ARPAT Pietro Rubellini. Per quanto riguarda il depuratore a Quarno e il canale Usciana ci sono due condizioni diverse. Quella di un depuratore che nel corso degli anni all'interno di un accordo quadro ha migliorato le sue prestazioni, quella di un canale, l'Usciana, che ovviamente è un canale che risente della forte antropizzazione, ma sul quale l'impatto del depuratore è un impatto che riguarda soltanto due sostanze, che sono i cloruri e i solfati, ossia le sostanze saline, quindi sostanze non pericolose e comunque all'interno dei parametri consentiti dall'accordo. Abbiamo dimostrato con dati alla mano, grazie anche alla collaborazione di ARPAT, che le acque non sono inquinate. Mentre per quello che riguarda i siti inquinati dal Cheu, la Regione ha definito insieme ai sindaci il piano degli interventi, sia per la messa in sicurezza di emergenza che permanenti. Stiamo procedendo ovviamente più speditamente sulla regionale Empolese, perché è di nostra proprietà, per le messe in sicurezza d'urgenza e queste sono procedure che nell'arco dei prossimi mesi porteremo a compimento per mettere in sicurezza ciascuno di questi siti, perché il riciclato da Cheu diventa pericoloso, potenzialmente pericoloso nel momento in cui rilascia cromo-isavalente e per rilasciare cromo-isavalente deve essere sottoposto alla lisciviazione, cioè deve entrare in contatto con l'acqua. Quindi le prime operazioni che faremo saranno quelle di isolare i siti contaminati e non permettere l'entrata in contatto del Cheu con l'acqua. Questo ci dà un po' più di tempo per fare bene e al meglio possibile tutti i progetti, tutte le procedure per arrivare poi alla rimozione e alla messa in sicurezza definitiva di questi siti. Il commissario straordinario Caselli è stato nominato proprio per garantire il massimo presidio della regione da un lato sull'accordo di programma. Dall'altro fare in modo che ci sia un forte presidio e coordinamento tra i vari enti coinvolti, quindi la regione, i comuni, ARPAT e gli altri soggetti che partecipano a questi tavoli tecnici per avviare i vari interventi che sono stati indicati soprattutto da ARPAT e farli partire prima possibile. Grazie. 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 Grazie.